ma è questo il fenomeno che abbiamo preso mister ma io sono abituato a giocare a scalzo non si può levare le scarpe mister dai l'allegamento va bene dai toglila ragazzi devo trovare un modulo di farlo giocare senza scarpe ci penso io mister faccio aggiungere una nuova regola grazie Gio Franco